Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla polemica politica che è scoppiata nelle ultime ore a Gela. L'ex sindaco Angelo Vasuro, attraverso un post su Facebook, sottolinea che una parte del Partito Democratico ed altri pensatori del Consiglio Comunale sono pronti a concludere un accordo con Messinese e per lui con Siciliano per gestire Gela. In pratica, sottolinea l'ex sindaco, i Cinque Stelle scaricano Messinese e compagni per manifesta incapacità immediata alla risposta del primo cittadino. Un post su Facebook dell'ex sindaco di Gela, Angelo Vasuro, è in città scoppia di rompente la polemica politica. Il PD che si vuole male, scrive l'ex sindaco, dopo aver letto le dichiarazioni di Fassina pronto a votare e candidarsi contro il PD a Roma, sento che Gela, una parte del Partito Democratico e altri pensatori del Consiglio Comunale sono pronti a fare di più. Concludere un accordo con Messinese e per lui con Siciliano per gestire Gela. In pratica, i Cinque Stelle scaricano Messinese e compagni per manifesta incapacità e parte del PD corre in soccorso del sindaco per pochi e qualche assessorato. La cosa è certa, già definita, scrive Vasuro, ma io da adesso dichiaro la mia contrarietà e credo di poter dire la contrarietà della parte buona della città. Questo è il pensiero, come dicevamo, scritto su Facebook dall'esponente del Partito Democratico. Non si è fatta attendere la risposta di Domenico Messinese che attraverso una nota stampa sottolinea che dopo troppe partite perse è prevedibile che uno giocatore di poker possa rilanciare per bleff, ma non è questo il modo per accreditare se stessi o la propria corrente ad un congresso cittadino. Domenico Messinese commenta così dunque le voci su un suo accordo con Frange del PD che strumenterebbe dalla Giunta gli assessori del Movimento 5 Stelle. Chiedere la collaborazione a tutte le forze politiche del Consiglio Comunale, ha detto il sindaco, non è segno di debolezza. Debole semmai è chi, anziché cercare di rimediare per le emergenze alimentate in tutti questi anni o avere la buona creanza di quarsi da parte, abbozza mediocri sceneggiature di fanta politica alla vigilia di un insanabile braccio di ferro interno al suo partito. Non sottrarò altro tempo alla mia vita istituzionale, ha concluso Messinese, controbattendo alle insensate illazioni di alchimie partitiche fini alla ricerca di potere. Il tempo di un amministratore responsabile va investito in impegno e serietà per la propria gente. E domani alle 10.30 presso l'Hotel Sileno di Gera si svolgerà un evento dal titolo Facciamo Rete, idee, progetti ed esperienze dal territorio. L'incontro è organizzato dall'Unione Provinciale di Caltanissetta del Partito Democratico. I lavori saranno introdotti da Giuseppe Cammarata, responsabile delle attività culturali, eventi, spettacoli e del Forum Turismo e Cultura della Segreteria Provinciale del PD. Durante l'evento di domani sarà presentato il Forum Cultura e Turismo del Partito Democratico regionale. Per approfondire l'argomento sarà presente Antonio Ferrante, responsabile Cultura e Turismo della Segreteria regionale dello stesso partito. All'incontro inoltre saranno presenti diversi esponenti del PD di Gela e della provincia di Caltanissetta. Il cuore dell'evento saranno gli interventi degli ospiti che racconteranno la loro esperienza nel campo della cultura e del turismo. Onorevole Ferrandelli, chi sono i coraggiosi? Ex onorevole, i coraggiosi sono coloro che credono che la Sicilia meriti più del governo regionale Crocette, di questi 90 deputati che stanno lì e che stanno decidendo di mettersi in gioco perché non c'è più nessuno da delegare, ma bisogna aggregare trasversalmente chi sa qualcosa e non chi conosce qualcuno. Lei poco fa ha sottolineato ex, infatti è l'unico che si è dimesso. Perché questa scelta? La fiducia delle persone è una cosa seria. Se tu dopo due anni e mezzo vedi che non hai portato dei risultati a casa, devi fare dei bilanci e quei bilanci quando sono negativi devono portare al scioglimento dell'assemblea regionale. Se vedi che tutti gli altri stanno lì per 7 mila euro al mese, tu devi fare un gesto di coraggio e di coerenza e quindi ti dimetti. Lei ha detto non lascio il PD ma voglio cambiarlo all'interno. È ancora così? Questo gruppo dirigente del Partito Democratico dovrebbe andare a casa e lo sta dimostrando perché sta lì tenendo ostaggio anche la tanta gente per bene che crede in valori importanti che sta all'interno del Partito Democratico. Noi parliamo ai militanti del Partito Democratico, non solo a loro, parliamo a tutti i siciliani ma di certo non lasciamo questo campo libero. I coraggiosi si strutturano in provincia per arrivare dove e qual è l'interlocuzione con il PD locale? Noi vogliamo cambiare tutti i gruppi dirigenti, vogliamo che i coraggiosi governino la Sicilia e che governino tutte le città nelle quali si andrà il voto a partire dalla primavera prossima. I dirigenti del Partito Democratico cambiano da territorio in territorio, ci sono dirigenti irresponsabili e molto legati al territorio, ci sono dei dirigenti che invece sono attaccati ad interessi personali. Lì dove i dirigenti saranno aperti alla società staranno sicuramente con i coraggiosi, dove non starà così apriamo un conflitto. Antipolitica e coerenza rispetto a una scelta, che vuol dire per lei nella sua visione delle cose? Significa essere sempre fieri di poter portare avanti la fiducia delle persone, significa mantenere gli impegni, significa avere il coraggio delle proprie azioni ma anche il coraggio di potersi risottoporre all'elettorato con degli obiettivi raggiunti. Noi abbiamo diversi riferimenti in giro per la Sicilia, abbiamo qui su Caltanissetta l'ex sindaco Salvatore Messana che si sta impagniando tanto, tanti militanti anche del Partito Democratico come l'avvocato Giocello e lo giudice, abbiamo nel territorio anche di Gela grandi riferimenti come Alessandro Ascia, come lo stesso gruppo e lo giudice, stiamo cercando un gruppo dirigente che sostituisca un gruppo dirigente che ha fallito. Cambiamo l'argomento, la pagina della cronaca giudiziaria, un uomo di 50 anni, Gioleese, ieri sera ha colpito con una testata un carabiniere colpevole di avergli chiesto i documenti per avere creato una lunga coda di veicoli lungo il centralissimo Corso Vittorio Emanuele all'altezza di via Trieste. Al volante della sua auto una Peugeot 307 aveva bloccato il transito veicolare per dialogare con un pedone. La reazione incontrollata dell'automobilista indisciplinato si è avuta quando i carabinieri hanno notificato una contravvenzione per violazione del codice della strada. Il cinquantenne, dopo aver afferrato per il bavero della giacca dell'uniforme uno dei due militari, lo ha colpito con una violenta testata all'altezza della bocca, provocandogli una ferita al labbro superiore e sotturata dai medici dell'ospedale con quattro punti. Il carabiniere ne avrà per 40 giorni. Alla scena hanno assistito tante persone, tra cui anche un carabiniere libero dal servizio e intervenuto in ausilio dei colleghi per bloccare la furia dell'uomo e condurlo in caserma. L'automobilista cinquantenne è stato arrestato e posto ai domiciliari per i reati di resistenza a pubblico ufficiale. Nel prevista per oggi l'autopsia sui corpi di Giuseppe ed Emanuele Labbi, suo padre e figlio, morti a causa di un incidente aereo mentre a bordo di uno stormo a 300 stavano sorvolando l'isola di Stromboli, direzione Foggia. L'autopsia è stata disposta dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Barcellona Pozzodigotto, Francesco Lomonaco. Le salme dovrebbero giungere in città nel tardo pomeriggio o domattina. In chiesa madre sarà allestita la camera ardente. Per la partita di domenica prossima il Vincenzo Presti tra Gela e Profavara si terrà un minuto di silenzio. La squadra bianca-azzurra scenderà in campo con il lutto al braccio. Intanto continuano a giungere in redazione messaggi di cordoglio per quanto accaduto. L'associazione sportiva dilettantistica a Mogela ricorda la figura di Giuseppe Labbiso, sottolineando che Peppe non era semplicemente il presidente della Mogela, la società di calcio che fondammo oramai 20 anni fa. Non era semplicemente un amico, era un fratello. Il lossomore per gli amici, per noi, si legge nella nota, era una fonte di energia incredibile per tutti, una forza della natura che facevamo fatica a contenere. Ci pare impossibile che se ne sia andato di lui, ci manca già tutto, l'entusiasmo, la disponibilità smisurata, l'essere sempre pronto, lo scherzo e alla giovialità, la sua allegria contagiosa, la sua incontenibile ed irrefrenabile intraprendenza. Emanuele Labbiso, invece, era per tutti noi come un figlio o un fratello più piccolo, uno dei ragazzi che abbiamo visto crescere, anzi, di quelli che conoscevamo già da prima che nascessero. Con noi, dice la Mogela, ha frequentato tutte le categorie della scuola calcio, è cresciuto qui mostrando da subito la sua educazione, la sua dolcezza, la sua disponibilità nei confronti degli altri. Ma in lui trovavamo anche tante affinità con Peppe, aveva la stessa capacità di sorridere, la stessa autorenia, la stessa grande voglia di giocare, stare con gli amici, vivere. E' una doppia perdita che lascia in tutti noi un grande, enorme senso di vuoto. Facciamo fatica, dice ancora la Mogela, al momento a trovare altre parole. Peppe e Nele rappresentano dei pezzi di cuore che faremo di tutto per custodire e onorare. Abbiamo oggi in mente una serie di iniziative per ricordarli. Questo però è il momento del dolore e della tristezza. Ci manca già Peppe, amico di mille avventure. Ci manca già Emanuele, ragazzo splendido, con una vita tutta da vivere strappata troppo presto da un destino che non potrà mai spiegare fino in fondo questa tragedia. Ci stringiamo ai familiari con l'affetto sincero di sempre. Ci uniamo al dolore di tutta la città che ha amato e continuerà ad amarli e li stringiamo con la mente e con il cuore e un abbraccio in cui si racchiudono tanti anni di amicizia vera, sincera, autentica. Ciao ragazzi, sarete sempre con noi. Stasera, come ogni venerdì, sui nostri teleschermi torna agora il rotocalco di approfondimento giornalistico di Canale 10 ideato e condotto da Franco Gallo, che riaccenderà i suoi riflettori sul protocollo ENI e su quello che da più parti viene definita la madre di tutte le vicende gelesi, ossia la riconversione dell'industria pesante dalla raffinazione classica alla green refinery. Il passo doveva essere più breve, almeno secondo chi il 6 novembre del 2014 firmò l'accordo al Ministero dello Sviluppo Economico. Ed invece, a distanza di oltre un anno, nulla di concreto si vede e si muove. Questo è quantomeno in apparenza. Nella realtà, invece, saranno gli ospiti della puntata di questa sera di Agorà a fare il punto della situazione. Quali gli sviluppi di un accordo che sinora è sembrato più simile all'ennesima beffa perpetrata ai danni di questa comunità e dove sta andando l'economia di una città che sembra letteralmente piegata su se stessa. Tutto questo ad Agorà stasera a partire dalle 21 su Canale 10. Ricordiamo che oltre che sui canali 612 e 815 del digitale terrestre, Agorà è visibile in streaming da qualsiasi parte del mondo attraverso il sito internet tg10.it L'Agenzia delle Entrate di Gela non chiuderà per tutto il prossimo anno. L'unica a chiudere in Sicilia sarà la sede di Milazzo perché la struttura è inagibile. Lo dice la CGL attraverso una nota. La CGL, si legge a tutti i livelli, ha subito acceso riflettori su un tema delicato e trasversale perché interessa ed investe il libero cittadino, il professionista e di tanti commercianti che quotidianamente si regano presso l'ufficio di Gela. A Roma, tre giorni e dietro, è stata accolta la proposta dei sindacati argomentata da numerosi prodotti e dalla delicatezza delle funzioni svolte dall'Agenzia. Il sindacato sottolinea di invitare la politica, tutta la politica di tutti i partiti a non abbassare la guardia rispetto al tema dell'arretramento dei servizi pubblici e conferma l'idea che oggi prende ancora più vigore che donare locali comunali gratuitamente ad enti con milioni di euro di utili sarebbe stato un grande errore a maggior ragione in una città profondamente in crisi. Ed ora occupiamoci dell'iniziativa che si svolta ieri nella Pinacoteca Comunale sul grano duro dei campi geloi ed il pane di Gela. Taglia alta, basso indice di glutine, colore particolarmente rosso che ne esprime la qualità. Sono le caratteristiche del grano russello, la cui coltivazione sperimentale è stata riavviata a Gela tra le contrade Burgio e Settefarine. A riscoprire questa cultura antica è stato l'agronomo Salvatore Susino grazie ai consigli del nonno, oggi ultranovantenne, gestore di un pastificio a Gela negli anni 50. Susino è stato anche uno dei relatori del convegno promosso dall'Associazione Culturale di Francesco Città, gli amici di Antifemo ed Entimo, che ieri pomeriggio si è tenuto presso la Pinacoteca Comunale. Queste varietà antiche erano quelle che si coltivavano in tempo, quindi si sono molto adattate al nostro territorio. Si presta tantissimo perché fa parte della nostra tradizione agricola e anche della nostra tradizione dei prodotti che derivano dall'agricoltura. Quindi mi riferisco principalmente alla produzione del pane, con i metodi e le materie prime come si facevano a volte. Sono intervenuti inoltre un dirigente medico del reparto di gastroenterologia dell'ospedale di Gela, la biologa nutrizionista Danila Sciagura e il docente universitario Paolo Guarnaccia. Il comune di Gela, che ha patrocinato l'evento, ha accolto l'idea di dotare della denominazione comunale il grano e il pane gelesi. Il servizio di accoglienza del convegno è stato curato dagli studenti del corso serale e diurno dell'Istituto Alberghiero di Gela, diretto da Grazio di Bartolo. Gli stessi studenti dell'Istituto del corso di enogastronomia hanno preparato un ricco menu di degustazione di pane, realizzato con l'antico grano denominato russello, abbinato alle eccellenze di prodotti di coltivazione locale. È un prodotto di alta qualità, a basso tenore di glutine, quindi con alta digeribilità, quindi anche chi con le patologie, se così si possono chiamare, di intolleranze generiche al glutine, ne possono trarre vantaggio. Questo è un impegno che si è preso dall'amministrazione comunale nella volontà di sponsorizzare, incentivare in qualche modo le culture locali. L'ottica è quella di valorizzare anzitutto la produzione agricola, valorizzare la produzione agricola di valore e soprattutto valorizzare tutto quello che può contribuire nell'ottica dell'agricoltura biologica all'uso dei prodotti a chilometro zero. Abbiamo presentato questo progetto che si rifà alla storia antica della nostra città. Di fatti i grani duri venivano prodotti a gela sin dai tempi dei greci. A testimonianza di ciò esiste al museo un ritrovamento di chicchi di grano risalenti al V secolo a.C. Ma poi Virgilio nell'Eneide cita i campi geloi. Successivamente possiamo pensare all'epitaffio sulla tomba di Eschilo che parla di questa gela ricca di grano. I nostri contadini hanno coltivato il grano, questo tipo di grano, fino agli anni 70. Poi progressivamente lo hanno soppiantato con i grani moderni. La dignità del Reo ed il suo inserimento è il titolo del convegno che si svolgerà a Gela oggi dalle 15.30 al Palazzo di Giustizia e domani dalle 9.30 presso l'Aulamagna del liceo classico Eschilo. Gli incontri sono organizzati dalla Lions Club di Gela presieduto dall'avvocato Antonio Gagliano in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Gela e saranno spunti di riflessione sul volume di Giovanni Maria Flick, Elogio della Dignità. Sono tanti gli ospiti che interverranno nelle due giornate. I cui lavori saranno presieduti oggi dalla Presidente della Corte d'Appello di Caltarissetta, Salvatore Cardinale, e domani da Don Giuseppe Costa, direttore della Libreria Editrice Vaticana. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Seconda parte del telegiornale. In occasione delle festività del Natale, l'Unità Alsi sotto sezione di Gela sarà presente domani, il 29 novembre, il 5, il 6, il 12 e il 13 dicembre prossimi nella Piazza Umberto I, in Via Palazzi, Angolo via Albania, in Viale Corte Maggiore, nei pressi dei Muretti di Machitella e davanti alle parrocchie cittadine per la vendita dei presepi di cioccolata. Il ricavato garantirà alla sottosezione di sostenere le varie iniziative e di far vivere dei momenti di condivisione fraterna ai fratelli diversamente abili. L'Unità si confida nella generosità di coloro che vorranno contribuire alle iniziative. Ragione, ordine e razionalità per portare avanti il principio fondamentale della tolleranza in difesa dei diritti umani. Saranno questi gli aspetti che entreranno in scena il prossimo 4 dicembre al Teatro Rosso di San Secondo nel Fabbricante di Immortalità, lo spettacolo teatrale scritto da Emanuele Limuti, presidente della Scuola Forense Giuseppe Alessi. Una simulazione processuale in difesa dei diritti umani in un periodo storico sempre più permeato da guerre, persecuzioni e attentati. Un lavoro presentato a Palazzo di Giustizia che ha visto la partecipazione di avvocati, magistrati e della Croce Rossa italiana, protagonisti dallo spettacolo. L'idea nasce innanzitutto dalla constatazione di quello che accade attorno a noi, tutti i problemi relativi alla immigrazione, i problemi della intolleranza, del fondamentalismo, della violenza, la strage e le stragi che sono state commesse non soltanto adesso ma anche negli ultimi anni. Quindi c'è una problematica di fondo che riguarda la difesa dei diritti umani che riteniamo sia anche un tema particolarmente sentito da parte dell'avvocatura, da parte della Scuola Forense che interpreta le esigenze dell'avvocatura e le aspirazioni dell'avvocatura. Ma la Croce Rossa è il partner, diciamo anche il beneficiario di un'opera che è portata davanti dall'ordine degli avvocati, dalla Fondazione Scuola Forense e dall'Associazione Nazionale Magistratico, il patrocinio del Comune, un'opera che invita tutta la collettività a riflettere su quella che è l'attualità e l'eternità della tutela dei diritti umani. La Croce Rossa è sicuramente l'ente umanitario, la situazione umanitaria più grande al mondo, ma la sua azione umanitaria si fonda sulla tutela, sul rispetto dei diritti, dei diritti dell'uomo, sulla lotta alle discriminazioni e quindi alle vulnerabilità. Quindi noi ci auguriamo che a questo spettacolo che gli autori stanno donando alla Croce Rossa e alla collettività tutta nissena sia certamente un'occasione di riflessione ancora più importante al fine sempre più di salvare le vite e cambiare le mentalità. Flash Mob domani pomeriggio alle 16 in Piazza Umberto Prima Gela organizzato dalla Sociazione Sportiva Dilettantistica Orizzonte preseduta da Natale Salucci. L'evento organizzato da Special Olympics Italia si svolgerà contemporaneamente in tutta la nazione. Obiettivo della manifestazione è quello di trasmettere il messaggio di gioia e di inclusione in situ in Special Olympics ed avrà lo scopo di riunire tutti in una danza gioiosa che mette al centro, come sempre, l'atleta. Stilato il programma per la festa dell'Immacolata Concezione prevista per martedì 8 dicembre prossimo. Si comincia domani alle 16.30 con lo scampanio festoso e lo sparo di 12 colpi a cannone annunziato alla città. Alle 18 l'eucarestia preseduta da Don Raimondo Giammusso nel venticinquesimo anno di sacerdozio e alle 20.30 veglia di avvento e solenne lucernaio animata dal Movimento Giovanile San Francesco. Continua al Teatro Comunale Eschilo la stagione teatrale. Domani alle 17.15 e alle 21.15 Federico Buffa porterà in scena le Olimpiadi del 1936. Il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Prenderà il via il 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, Lasciate Libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. L'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro mentre il singolo biglietto costerà 15 euro. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Arriva il grande jazz a Gela appuntamento al Teatro Comunale Eschilo. Venerdì 11 dicembre Francesco Caffiso in duo con Mauro Schiavone. Giovedì 17 dicembre Antonella Ruggero. Venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro. E venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino. Dalle 17 alle 20.00 per informazioni bisognerà chiamare i numeri di telefono 0 933 911 892 oppure 345 5880 580. Corri con papà Natale. Sesta edizione si terrà il prossimo 12 dicembre alle 9.30 in Piazza Umberto I a Gela. L'iniziativa sportiva è promossa dall'associazione Green Sport presieduta da Giuseppe Veletti. Informazioni e iscrizioni al numero 347 57 99 271. Mostra ornitologica Gela si svolge fino a domenica 29 novembre presso la palestra del quinto circolo didattico Don Milani. L'ingresso è gratuito. Durante l'iniziativa sono previsti un concorso di disegno riservato ai bambini della scuola. La seconda mostra fotografica curata da Max Bella e la prima mostra di pittura promossa da Dino Lancianese. E né Giulietta né Romeo il film in programmazione al Cineteatro Antitodo di Macchitella a Gela. Sono tre gli orari, ve li ricordiamo, 17.30, 19.30 e 21.30. Con una notizia dedicata al cinema noi chiudiamo le informazioni di oggi. ricordandovi ancora una volta che notizie e servizi sono consultabili attraverso il nostro sito internet e il portale tg10.it e vi ricordiamo ancora una volta che il televideo della nostra emittente è costantemente aggiornato. Grazie e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.